Ciao ragazzi, eccoci qua, siamo a Super League Triathlon, Hamilton Island, come potete vedere c'è uno spettacolo magnifico. Sono tre giorni di gare, ieri abbiamo avuto tre mini triathlon, quindi distanze molto brevi con tutti i sport invertiti. Oggi abbiamo avuto la crono questa mattina, mentre oggi pomeriggio abbiamo un swim run, swim bike run, mentre domani abbiamo altri tre mini triathlon in eliminatoria. Direi un circuito molto interessante, molto divertente, molto veloce, è fantastico, in effetti per come è la mia condizione non pensavo di essere già così brillante. Questa mattina nella crono ho sofferto un po', però oggi stringiamo i denti, vediamo come va e sono fiducioso, ma soprattutto mi sto divertendo. Questo è un bellissimo circuito, secondo me ci sarà da divertirsi in futuro. Intanto, buon proseguimento. Ciao ragazzi!